Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Grazie per essere con noi, per presentarla potremmo dire fare un po' la sua storia, diciamo che è una delle donne di punta del Partito Democratico, delle giovani politiche volute da Renzi, anzi poi c'è sempre questo termine il cerchio magico, lei fa ancora parte di questo cerchio magico, ormai è un'espressione molto usata giornalisticamente. Ma guardi quando ho iniziato a fare politica a livello nazionale mi consideravano una renziana, io dicevo sempre che messa così pareva una malattia, oggi che il segretario del Partito Democratico è Matteo Renzi non posso più nemmeno vantare la malattia perché oggi siamo un po' tutti renziani, nel senso che è il nostro segretario e quindi insomma siamo tutti vicini al lavoro che sta facendo. Allora gli italiani si aspettano grandi magie da Renzi, da voi tutti i giorni, attendiamo novità, questo c'è qualcosa di magico, almeno nelle aspettative. La sua scelta di candidarsi in Europa è stata una sua scelta, lo abbiamo chiesto anche alle altre candidate, oppure imposta dal Partito e che cosa farà se sarà eletta? Questo lo diciamo come premessa. Certo, beh imposta non direi, è sicuramente una bella opportunità che mi ha dato il Partito, un'opportunità importante perché insomma spesso diciamo che l'Europa è lontana però non ci rendiamo conto che l'Europa c'è già, che noi già per il 60% della legislazione nazionale dipendiamo dall'applicazione di regolamenti e direttive europei. Questo solo per dirle quanto è importante oggi andare in Europa e andarci con una nuova classe dirigente. Guardi, purtroppo spesso in Europa noi abbiamo contato poco, infatti la politica l'hanno fatta altri, in particolare la Germania. Ma dobbiamo anche farci un po' di mea culpa perché non sempre abbiamo mandato, e non solo il Partito Democratico in generale, come partiti italiani, non sempre ci abbiamo mandato una classe dirigente diciamo determinata. Spesso ci abbiamo mandato politici a fine carriera. La scelta del Partito Democratico questa volta è stata molto diversa, è stata proprio quella di dire, intanto la decisione di mettere 5 capolista donne, che non è solo una sfida alla parità di genere ma è proprio una sfida culturale, cioè l'idea di dire che in Europa ci mandiamo una nuova classe dirigente perché l'Europa conta e in Europa vogliamo contare di più. Attività produttive, non made in Italy, volevo arrivare lì, si sta occupando molto di questo, ho visto anche in incontri nel Lazio, a Roma, oggi leggiamo purtroppo che il PIL è di nuovo in frenata, lo spread sale, Renzi garantisce che non bisognerà fare manovre correttive, cos'è che non sta funzionando secondo i vostri piani? Ma guardi, è vero che questi sono dati che un po' ci preoccupano anche se cerchiamo di mantenere un certo ottimismo perché comunque il trend sembrerebbe essere positivo. Sono dati che ci dimostrano anche quanto la ripresa nel nostro paese sia indubbiamente difficile, anche perché il nostro è un paese sul quale pesano ritardi di riforme strutturali, pesano ritardi di anni sulle riforme vere, sulle riforme strutturali, sulle riforme in grado di far competere il nostro paese ai livelli degli altri paesi europei e delle altre economie internazionali. Penso anche un'altra cosa, noi in questo dibattito sulle elezioni europee abbiamo parlato poco di Europa, però i dati di oggi ci riportano una triste verità, che la politica dell'austerity in Europa è una politica che, stando ai dati, ha fallito. E infatti il Partito Democratico si candida ad andare in Europa a costruire una nuova politica, che non è quella appunto solo del rigore di bilancio, della burocrazia, del salvabanche, ma è un'altra Europa. È l'Europa che punta di più sulla crescita, sull'occupazione. Noi vediamo il dato del PIL, ma c'è un altro dato che è particolarmente allarmante. In Europa ci sono oggi 27 milioni di disoccupati. Ecco, noi se vogliamo creare uno spazio che dia speranze future, è chiaro che dobbiamo aggredire quel dato lì. E come lo aggrediamo? Lo aggrediamo uscendo, a mio parere, dalle politiche dell'austerity, che è uno dei temi sui quali stiamo lavorando, sui quali vorremmo lavorare. Poi, certo, lei mi parlava di Made in Italy. Io sto incontrando in questa campagna elettorale tanti imprenditori, in particolare imprenditori della piccola media impresa. E del centro Italia, no? Che è più vicino a noi. Cosa emerge in questi conti? Ma guardi, intanto mi faccio dire che se c'è un filo conduttore nei territori enormi, che se avrò il piacere di essere votata andrò a rappresentare in Europa, Beh, se c'è un filo conduttore è proprio quello delle grandi eccellenze che sanno esprimere, dell'artigianalità, delle competenze, della bellezza, anche delle produzioni tipiche, del Made in Italy in una parola. Perché, ecco, io penso alla Toscana, penso anche a Lazio, alle Marche, al distretto calzaturiero delle Marche. Quindi c'è questo elemento del Made in Italy. Noi in Europa parliamo spesso di libera concorrenza e parliamo spesso di libera circolazione delle merci. L'Europa sul Made in Italy non è stata sufficientemente in grado di tutelarlo. E io penso che oggi tutelare il Made in Italy non significa solo fare gli interessi dell'Italia, ma significa anche fare gli interessi dell'Europa, perché l'Europa può tornare a competere nel mondo se le economie nazionali reggono l'impatto della crisi. E allora un'economia come la nostra, territori come i nostri, che vivono di Made in Italy, beh, non possono pensare che sia la Francia col Parmesan a farci concorrenza. Ecco perché dobbiamo lavorare sulla tracciabilità dei prodotti. Cioè il Made in Italy deve essere il risultato di produzioni che vengono da una filiera produttiva realizzata in Italia, portata avanti in Italia. E c'è un altro grande tema sul quale noi dobbiamo andare a Bruxelles e lavorare, che è quello della lotta alla contraffazione. Cioè la contraffazione oggi ha un costo sul Made in Italy di 7 miliardi di euro. Quindi capisce benissimo che noi... Quindi tutela, difesa del Made in Italy è la priorità. Non possiamo assolutamente prescindere da questo. E poi però, ecco, lei mi riportava la triste realtà dei dati del PIL di questi giorni. È chiaro che dobbiamo uscire dalle politiche dell'austerity, puntare di più sulle nostre eccellenze, però dobbiamo anche portare avanti le riforme. Perché come le dicevo prima, noi scontiamo un ritardo davvero strutturale sulle riforme. Cioè noi abbiamo un Paese che oggi non è in grado di competere anche, per esempio, per il costo della burocrazia che grava sulle imprese, per il costo di una mancanza di regole più efficienti nel mondo del lavoro. Noi col governo Renzi abbiamo cominciato a fare qualcosa. Certo, dobbiamo andare avanti. I dati di oggi ci dimostrano che non è sufficiente probabilmente mettere a 10 milioni di italiani 80 euro in tasca in più a fine mese. Ci dicono che probabilmente non è sufficiente tagliare del 10% l'ira per le aziende. sappiamo che dobbiamo semplificare la burocrazia, sappiamo che dobbiamo semplificare il sistema giudiziario e renderlo più anche lì competitivo, perché oggi avere una sentenza dopo anni, soprattutto in materie che riguardano per esempio il diritto del lavoro, è impensabile. Quindi come capisce, è vero che dobbiamo andare in Europa e cambiare anche l'Europa, ma possiamo farlo solo se creiamo le condizioni per cambiare anche il nostro Paese. Quindi lei ribalta anche questo concetto, superato evidentemente, il fatto che chi andava in Europa era un po' fuori dalla politica. Oggi la politica anche nazionale si determina lì. Le faccio su questo un'altra domanda. È sempre così difficile, almeno per certi territori, probabilmente anche il nostro, Roma e la regione Lazio, attirare invece soldi dall'Europa, risorse, partecipare a bandi. Ecco, ha anche questo compito un deputato europeo, insomma nel 2014, visto che siamo un po' fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei. Beh, ha perfettamente ragione. Lei ha toccato un tasto dolente, che è quello dell'utilizzo dei fondi europei. Devo dire che, peraltro, la regione Lazio ha fatto uno sforzo grandissimo e anche riuscito di utilizzare tutte le risorse a disposizione, perché spesso ci lamentiamo di non avere soldi e poi rimandiamo a Bruxelles, il 45% su scala nazionale dei fondi che invece arrivano all'Italia. E allora il tema di come spendiamo i soldi che arrivano dall'Europa è un tema assolutamente centrale. Bisogna dire due cose. Da una parte dobbiamo concentrarci di più su progetti che abbiano un respiro strategico. Con questi soldi noi spesso abbiamo finanziato sagre, abbiamo finanziato clientele. Ecco, abbiamo finanziato cose impresentabili. Dobbiamo fare uno sforzo in più come classe dirigente di questo paese a tutti i livelli e quindi utilizzare questi fondi che saranno cospicui, perché non ci dimentichiamo che nel prossimo settennato arriveranno 60 miliardi in Italia dall'Europa. Quindi come li spendiamo è il primo tema e ci vogliono progetti strategici, progetti che puntino anche sulla nuova economia. Uno dei filoni dei progetti dei finanziamenti europei è proprio quello sull'innovazione. Ecco, allora oggi rendere il nostro territorio più competitivo anche dal punto di vista delle infrastrutture innovative significa creare le condizioni proprio anche per attrarre investimenti straniere e per permettere alle nostre aziende di essere più moderne. Poi è chiaro che c'è un altro problema enorme che è quello dell'eccesso di burocrazia che spesso è legata, che noi abbiamo, perché questi soldi che arrivano dall'Europa spesso transitano dalle regioni e lì la burocrazia aumenta. Però devo dire che anche quando partono e arrivano direttamente a chi ne fa richiesta, alle imprese, sono sempre piuttosto complessi i banni europeici. Ci vogliono sempre uno o due persone in azienda che stiano lì a sbrogliare le pratiche. Esatto, per cui ecco io penso che per carità senza nulla togliere poi alla necessità di rendicontare quindi di essere trasparenti nell'utilizzo di questi soldi, però dobbiamo cercare di semplificare un po' di più le procedure. Ci dica due parole anche purtroppo sull'Expo, intendo quello che sta accadendo. Allora lei ha detto, l'ho letta su Twitter, ha detto un paio di concetti chiari, dice io intanto quando c'era Tangentopoli ero molto giovane, insomma forse 19 anni, Greganti ha detto non solo... Così svela direttamente la mia età ai telespettatori. È durato un po' Tangentopoli, c'è un piccolo margine. Ha anche detto Greganti io l'avrei radiato, non solo l'avrei fatto uscire dal Partito Democratico. Può bastare però questo agli italiani che evidentemente trovano nuove figure, una classe dirigente diversa che ha rotto anche forse con quel partito, però i nomi poi sono sempre quelli e finisce più o meno sempre così la storia in Italia sui grandi progetti. Eh sì, questo è davvero un... Cioè la vostra responsabilità non c'è in questo caso? Ma insomma, appunto, io avevo 19 anni quando è scoppiata Tangentopoli e ho sentito parlare di Greganti adesso in questi giorni, ma penso che la nuova classe dirigente del Partito Democratico sia molto diversa anche proprio come approccio alla politica della classe dirigente diciamo che l'ha preceduta e c'è stato un taglionetto. Insomma, il nostro segretario ha 38 anni, il nostro presidente del gruppo dei parlamentari... Quando vi si può chiedere di controllare quelli più grandi, insomma? Ma guarda, io penso che si possa chiedere un'altra cosa al Partito Democratico visto che oggi è forza di governo, di tentare di lottare contro la corruzione. Ecco, la nomina di Raffaele Cantone, uno degli esempi diciamo più illuminanti della magistratura italiana e della lotta alla corruzione e alla mafia è stato nominato presidente dell'Authority per l'anticorruzione proprio come uno dei primi atti del governo Renzi appena insediato quindi, insomma, già questo la dice lunga, no? Di quanto è importante per noi combattere la corruzione perché lei ha ragione a dire che non è pensabile che tutte le volte che in Italia abbiamo a che fare con una grande opera e beh, lì puntualmente, contestualmente abbiamo anche a che fare con corruzione, con tangenti questo vuol dire che la corruzione è endemica cioè vuol dire che la corruzione è strutturale al nostro sistema e che ci vorrà davvero un'azione incisiva per combatterla uno dei metodi per combatterla è anche quello della trasparenza che magari in altri paesi del mondo non è così urgente e impellente da noi invece il criterio della trasparenza deve essere un principio cardine sul quale impostare la riforma della pubblica amministrazione ma sul quale impostare anche Expo già da ora io per esempio ricordo questo bellissimo progetto che si chiamava Open Expo che era un'intuizione di un start-up per italiano famoso che è Riccardo Luna che era stato presentato proprio dal commissario dell'Expo Sala e che era un progetto semplicissimo se vogliamo c'è l'idea di un'open data che mettesse online e in rete tutti i processi legati a Expo quindi le consulenze, le gare d'appalto addirittura il monitoraggio day by day o giorno dopo giorno dei cantieri ecco forse in un paese normale questo non sarebbe necessario da noi è uno dei modi per appunto dimostrare riacquistare la fiducia dei cittadini e dimostrare che possiamo essere una casa di vetro e dimostrare che quindi insomma anche in quel modo lì vogliamo combattere la corruzione perché la corruzione guardi non fa male sulla Expo e peraltro insomma chi dice oggi di stoppare tutto a mio parere non vuole il bene dell'Italia perché noi non possiamo far ricadere non sfruttare quell'opportunità no ma non possiamo far ricadere la responsabilità indubbiamente di un, come l'hanno chiamata di una nuova, mi aiuti cricca ecco mi viene la parola insomma non possiamo far ricadere quella responsabilità lì su un'occasione importantissima per rilanciare nel mondo proprio le nostre tipicità io prima le parlavo di difesa del Made in Italy beh quella è una vetrina Expo è una vetrina che ci permette di rilanciare le eccellenze agroalimentari per esempio quindi che ci permette di essere visibili nel mondo con le nostre bellezze con le nostre produzioni tipiche che ci permette anche di poter dare al lavoro a 200.000 persone perché questi sono i dati dell'Università Bocconi cioè 200.000 posti di lavoro oggi possono fare la differenza in un momento in cui abbiamo visto che insomma la crescita sperando che non ci siano altri arresti insomma speriamo che l'Expo si faccia e si ricomponga anche questa situazione l'Expo si deve fare ed è giusto che sia stato nominato cantone proprio a garanzia della trasparenza delle future operazioni ma si deve fare perché perdere un'occasione come quella significa darla vinta a chi ci ha speculato sull'Expo darla vinta all'illegalità Onorevole Bonafè introduco un collega un mio compagno di viaggio in questi incontri oggi è soltanto al telefono Alberto Di Maio caporedattore centrale del Tempo ben trovato Alberto buonasera Andrea e buonasera alla tua ospite alla Bonafè buonasera a lei tra le altre cose Alberto Di Maio ha anche scritto tre libri sul Movimento 5 Stelle dagli albori in poi è uno studioso del Movimento attenzione da quando ha capito che avrebbe fatto come dire discutere ecco allora voglio fare una domanda poi passo subito la palla ad Alberto lei ha anche detto questo non è non sono elezioni politiche il clima però mano a mano mi sembra si sia molto surriscaldato soprattutto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle adesso siamo arrivati alle querele insomma scontri abbastanza frontali e violenti mi mancano ah beh insomma ieri sera qualcosa è successo ecco allora a questo punto ecco la domanda che le faccio molto semplicemente è passato qualche giorno ha cambiato opinione è anche un'elezione politica cioè il Movimento 5 Stelle prefigura una sua vittoria se dovessero consideriamo questa ipotesi arrivare come primo partito secondo lei può non succedere nulla? allora mettiamola così mi piacerebbe che il dibattito fosse centrato sull'Europa perché come le dicevo prima insomma noi continuiamo a far finta che l'Europa non esiste e invece l'Europa già c'è l'Europa deve essere rilanciata e quindi dovremmo approfittare di questi di questa avremmo dovuto approfittare di questa campagna elettorale non tanto per porci la domanda Europa sì Europa no come sta facendo il Movimento 5 Stelle perché io credo che non ci sia futuro fuori dall'Europa ma per porci la domanda di come vogliamo costruire un'Europa diversa perché abbiamo dimostrato prima che l'Europa dell'austerity non tiene non regge ed è probabilmente una delle cause dei disastri della crisi e del dato della disoccupazione probabilmente anche del PIL che in questi giorni non sta crescendo come vorremmo detto questo purtroppo sì c'è molto di politica nazionale in questa campagna elettorale però guardi io penso che il voto del 25 maggio sia un voto importante proprio perché se il Partito Democratico dovesse uscire forte beh significherebbe anche dare maggio slancio a questa importantissima azione che sta portando avanti il governo sulle riforme perché guardi un conto è soffiare sul disagio sociale che c'è io non nego che oggi ci sia insomma che oggi ci sia un forte disagio sociale ci sia anche rabbia non lo nego però un conto è soffiare sulla rabbia un conto è dire rimbocchiamoci le maniche e troviamo delle soluzioni ai problemi che oggi ci sono e che sono problemi strutturali cioè non sono i problemi dei 70 giorni del governo Renzi semmai in 70 giorni il governo Renzi può aver messo in campo delle azioni proprio per dare delle risposte ma sono problemi che arrivano da decenni di inattività della politica ed è proprio questo il terreno su cui si sta alimentando l'antipolitica di Beppe Grillo cioè l'incapacità che ha avuto la politica in questi anni di fare riforme allora se facciamo le riforme e se dal 25 di maggio dovesse arrivare un segnale importante per il Partito Democratico beh noi procederemmo spediti per questa strada che a mio parere è l'unica che oggi può risolvere questi problemi perché soffiare sul disagio sociale e non proporre soluzioni non è la strada che a mio parere ci porta molto lontano Alberto a te la parola in questa ultima seconda parte di trasmissione sì chiederei chiederei alla buona fe questo il PD ha scelto di candidare 5 capolista donne alle prossime elezioni europee io credo che sia una scelta molto coraggiosa peraltro assolutamente inedita però la maggior parte dei candidati sono attualmente deputati come lei o come Gasbarra oppure eurodeputati uscenti come Sassoli La Costa Qualchieri non crede che il PD poteva aprirsi di più alla società civile e che potrebbe pagare un prezzo ad aver candidato e quindi diciamo presumibilmente eleggerà soltanto persone che già fanno parte della politica e in alcuni casi come il suo e quello di Gasbarra ma per restare alla circoscrizione dell'Italia centrale ma insomma ce ne sono tanti anche nelle altre circoscrizioni eleggeremo delle persone che abbiamo già scelto o parzialmente scelto da meno di un anno ma senta beh intanto la ringrazio per la scelta coraggiosa del PD di candidare le 5 capolista donne lo specifico non saremo elette per diritto divino nel senso che non mi nascondo la difficoltà di questa competizione perché poi andrà scritto accanto al simbolo il nome ricordiamolo che fa bene ricordarlo perché è un voto di preferenza quello per l'europea per cui dovranno scrivere buona fe se lo vorranno gli elettori per mandarmi in Europa cioè il fatto di essere capolista non mi dona di una non ci sono posti garantiti non mi dà una corsia preferenziale detto questo però Alberto Di Maio dice la società civile aprirsi di più ai non politici guardi beh intanto io l'ho preciso che a differenza di altri e non mi riferisco al mio partito io se dovessi essere eletta a Bruxelles chiaramente mi dimetterò dal Parlamento italiano perché credo che sia una questione di correttezza visto che c'è il voto di preferenza è corretto anche dire ai cittadini che se mi voteranno non resterò a Roma ma andrò a Bruxelles a lavorare veramente non succede per tutti questo sia chiaro anzi penso che basta guardare i capilista o le liste di altri partiti e vedere ministri che non si dimetteranno mai o vedere segretari di partito che non si dimetteranno mai per andare a Bruxelles già la dice lunga sulla nostra correttezza sulla società civile non voglio eludere la domanda noi abbiamo più volte criticato la politica fatta dai tecnici o comunque la politica fatta dai non politici i governi dei non politici insomma abbiamo detto più volte che se il governo Monti ha fallito è proprio perché era un governo di tecnici abbiamo detto più volte che la politica doveva tornare a fare la politica allora io non lo vedo come un minus quello di presentare persone che appartengono al mondo della politica anzi lo vedo come un diciamo valore aggiunto nel mio caso specifico peraltro io sono stato amministratore io e da poco che sono in Parlamento sono stata per nove anni quasi dieci amministratore locale io ho fatto l'assessore in un comune di 50.000 abitanti alle porte di Firenze molto no bravissimo comune di Scandici beh guardi chi fa politica diciamo a livello locale chi fa politica nelle amministrazioni nelle città tendenzialmente non può permettersi il lusso di non guardare in faccia alla gente perché poi il cittadino come primo front office ha proprio il comune e sei anche abituato a sintonizzarti sui problemi veri non sulle dinamiche politiche sulle ideologie ma sulle cose che insomma riguardano i cittadini da vicino beh anche questo penso che sia non per diciamo autopromuovermi ma anche questo penso che sia una diciamo una formazione che poi ti serve ti serve io l'ho sempre detto che per me la vita amministrativa è stata una palestra e guardi non solo politica ma anche di vita ecco spero di riuscire a portare questa esperienza qui e quindi spero di riuscire ad essere sempre sintonizzata sui problemi veri anche in Europa se ci dovesse arrivare noi siamo molto attenti a Roma naturalmente principalmente so che Alberto aveva una domanda un po' più romana un po' più territoriale Alberto sbaglio sì perché in questi giorni è scoppiata la polemica per il comizio che Renzi farà a Roma a Piazza del Popolo il 22 il prossimo 22 maggio e sarà sul palco senza il sindaco Marino e senza il governatore Zingaretti e allora ci sono state alcune polemiche ecco le chiedo ma il PD romano gli esponenti del PD romano laziale pensa che facciano perdere voti oppure Renzi come dire un po' troppo solista meglio farne a meno ha capito è un po' leggermente maliziosa la domanda di Di Mario ma credo molto opportuna però intanto visto che appunto lei è uno studioso del Movimento 5 Stelle intanto anche il Partito Democratico scende in piazza non ha paura di fare i comizi elettorali in piazza questo mi sembra un dato che possiamo sottolineare però usa solo il suo grillo seguendo il ragionamento che è Renzi di Alberto Di Maglio tutti gli altri fuori dal palco era quello il parallelismo che volevo fare perché insomma si dice spesso che Renzi è one man show però insomma mi pare che Grillo ecco al di fuori di se stesso poi quando va a fare i comizi non promuove nessun altro però nel caso specifico di Renzi le rispondo non è solo una scelta romana ma anche in altre realtà si sta muovendo diciamo si sta muovendo a fare questi comizi in cui sostanzialmente interviene lui intervengono i capilista quindi non è una scelta di escludere di escludere a priori la dirigenza romana e tra l'altro le do anche una notizia cioè io non so ancora visto che manca una settimana non so ancora chi effettivamente salirà sul palco per cui vedo le polemiche un po' diciamo strumentali e un po' magari preventive Alberto potrebbe esserci uno spazio anche per Marino hai capito non è escluso beh io insomma non so se augurarmelo o meno o se augurarlo o meno al PD perché in questa fase in effetti credo che Marino faccia perdere voti detto chiaramente però insomma mi interessava sapere come diciamo il partito democratico stava pensando quell'evento dato che appunto insomma spesso si rimprovera a Renzi di essere un uomo solo al comando ecco ma guardi anche questo appunto la trovo una semplificazione noi abbiamo fatto per le elezioni europee purtroppo non è circolato molto ed è un peccato ma abbiamo fatto un manifesto anziché fare i video in cui si picchiano i pugni sul tavolo senza capire niente abbiamo fatto un manifesto a mio parere molto invece esemplificativo di quella che è una nuova classe dirigente che sta emergendo nel partito democratico perché il manifesto per le europee è un manifesto che vede la faccia di tutti quelli che sono oggi i visi insomma di tutti quelli che sono oggi impegnati nel difficile cambiamento di questo paese e nel difficile cambiamento anche dell'Europa e quindi è un modo per dire che appunto c'è una nuova classe dirigente che sta che sta emergendo e insomma a parere mio ecco è esemplificativo dire che c'è solo il segretario del partito democratico il quale è segretario del partito democratico peraltro sta lavorando anche molto bene come presidente del consiglio e noi siamo tutti diciamo in linea e siamo tutti vicini a supportare questo lavoro che sta facendo il governo però ecco smettiamola di dire che è one man show perché significa a mio parere ridurre un po' la realtà ma ha pesato un po' al partito questa situazione di Roma il dover fare questo salva Roma che Marino non vuole che si chiami così il nostro sindaco ci saranno altre opportunità di appunto invece insomma di rincontro all'emergenza romana diciamo subito che Marino sconta anche una situazione che ecco sarebbe ingeneroso a debitali totalmente sarebbe assolutamente ingeneroso a debitali poi certo il salva Roma nel salva Roma sono state poste alcune condizioni anche perché non è pensabile appunto che sia un provvedimento dovrebbe essere un provvedimento una tantum non un provvedimento da reiterare ogni volta quindi sono state poste all'interno alcune condizioni l'amministrazione Marino dovrà adoperarsi perché queste misure piano di rientro abbastanza anche severo esatto questo piano di rientro apporti per ottemperare a questo piano di rientro Alberto ti lascio l'ultima domanda abbiamo pochissimi minuti prima l'ultima mia non le chiedo pronostici insomma aspettative sulle percentuali del Partito Democratico però posso chiederlo su altri due partiti minori cioè lei si augura per esempio che la lista Tsipras superi il quorum abbia successo e lo stesso glielo chiedo per il nuovo centrodestra oppure è meglio semplificare nella sua immagine quindi ma io sono perché il sistema partitico italiano sia un po' più semplice tant'è che appunto sono favorevole a una legge elettorale che insomma che dia le condizioni per esempio di governabilità e non sia diciamo il ricatto dei piccoli partiti che troppe volte poi ci hanno portato nelle condizioni della paralisi totale però guardi non mi faccio esprimere valutazioni o diciamo aspettative sugli altri partiti la esprimo sul mio ma non sulle percentuali la deluderò la deluderò non sulle percentuali no spero che chiaramente il Partito Democratico abbia un buon successo questo insomma è evidente ma perché penso che se vogliamo cambiare le cose insomma non dobbiamo star dietro a chi dice che vuole cambiare e poi di fronte al cambiamento insomma non appoggia nessuna delle riforme che vanno in quella direzione e lei ha capito a chi mi riferisco ma anche credito ai telespettatori mi piacerebbe chiaro che il Partito Democratico ottenesse un grosso risultato perché penso che oggi siamo riusciti a lei ha introdotto questa trasmissione dicendo che gli italiani hanno riposto tante aspettative nei confronti del Partito Democratico questo è un dato singolare cioè significa che appunto che oggi c'è bisogno di una politica che sappia anche un po' ridare speranza e penso che l'azione di questo governo e il Partito Democratico siano riusciti un po' a darla questa speranza certo non deve rimanere speranza deve insomma concretizzarsi di più e noi due minuti vogliamo lavorare per questo Alberto due minuti domanda e risposta dell'onorevole Buonafè a chiudere sì io mi spingerei anche un po' oltre diciamo da osservatore io credo che il PD andrà molto bene credo anche che potrebbe superare il 33% che sarebbe ovviamente un risultato eccezionale è ovviamente una previsione e quindi vale quanto tale un buon risultato credo nonostante le contraddizioni e ne dico soltanto una se la Buonafè diventasse eurodeputata e mande diciamo tiferebbe per Massimo D'Alema come commissario europeo seconda domanda non sarebbe però una contraddizione come il fatto di mandare in Europa D'Alema come si dice all'interno del PD ora proprio D'Alema che è il simbolo diciamo della rottamazione ma intanto le rispondo sulle percentuali perché a me i sondaggi fanno sempre un po' paura ha fatto un bel sorriso un po' scaramatico sul 33 l'onorevole si è visto anche che ho incrociato le dita però ecco occhio a star troppo dietro ai sondaggi perché è l'ultima volta diciamo che non abbiamo avuto una bella sorpresa poi per cui noi adesso siamo impegnati non a guardare i sondaggi ma siamo impegnati soprattutto a far capire qual è la nostra idea d'Europa che dovrebbe essere l'obiettivo di una campagna elettorale insomma ma le rispondo anche all'altra domanda io spero e mi auguro che come commissario italiano a prescindere dal nome ci va da una persona di grande caratura internazionale e soprattutto di grande capacità perché mi piacerebbe che insomma al di là dei nomi ci fosse un nuovo modo di fare politica basata sulle competenze con i baffi o senza no una donna magari una donna anche una donna Di Maio io le ripeto preferisco concentrarmi più che sui nomi sulle capacità sulle competenze e su quella diciamo beh appunto sulle competenze sulle capacità anche perché se stiamo dietro a nomi ci perdiamo sempre quindi meglio una donna o anche una donna cioè meglio un non D'Alema uomo o donna purché capace e competente mettiamola così non so se l'ho soddisfatta Di Maio ma come? E D'Alema è capace e competente ma infatti non ho detto oppure è simbolo di un passato diciamo che dovrebbe passare una volta per tutte Di Maio potrei dirle che non sta a me scegliere il commissario europeo e potrei diciamo levarne la lì uscirne così uscirne così però le dico che ripeto faranno le valutazioni più opportune quello che mi auguro da italiana è che il commissario europeo che rappresenterà l'Italia sia un commissario capace ecco dall'onorevole Simona Bonafè buon lavoro scaramanticamente ma insomma in bocca al lupo è veramente crepi crepi anzi si dice viva il lupo ma non ho detto viva il lupo ci vediamo con altri ripeto puntate prossimamente grazie a tutti arrivederci a presto